Nuova tragedia sfiorata a Casamicciola Terme, dove nella giornata odierna è franato il costone presente in via Ombrasco, la strada che da Piazza Bagni porta nella zona collinare della cittadina termale, già teatro della tragica alluvione verificatasi il 10 novembre 2009 e in cui perse la vita la piccola Anna De Felice, a due passi dai semafori che regolano il traffico veicolare su di un tratto di strada molto ripido, un consistente smottamento di terreno ha invaso completamente la carreggiata e solo per caso non ci è scappata la tragedia, in quanto in quel momento nessuno attraversava fortunatamente la strada in auto o a piedi. La frana di stamattina ripropone con estrema forza il pericolosissimo rischio di distesto idrogeologico che ingombe un po' ovunque sull'isola Dischia e in modo particolare proprio a Casamicciola, dove, nei presti di via Ombrasco, sono presenti costoni che sembrano poter dar vita ad improvvisi smottamenti. E che dire delle cave che insistono in zona, una delle quali appare semistruita da un altro smottamento. E vogliamo parlare di via Nizzola, dove negli anni sono state tante le frane che si sono verificate e che nonostante sia interdetta al traffico, continua indisturbato il continuo passaggio automobilistico e pedonale, visto che da tempo sono state spostate ai lati della strada le transenne che dovrebbero vietare a tutti il passaggio. Il tutto senza che nessuna autorità intervenga, da non credere. Ora basta pericoli, non è possibile dover sempre sperare nella buona sorte per evitare nuove tragedie. Si intervenga immediatamente per mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico colline e costoni della nostra isola, perché se oggi non ci è scappato il morto è stato solo un caso.